Ci sono anche sei aziende meccaniche piacentine, Rolleri Robotics, MCM, Mandelli, FFG di Jobs, Capellini e BFT Burzoni, tra le 700 che espongono a Emo, la fiera più importante al mondo delle macchine utensili in corso a Fiera Milano di Rho, che si svolge in alternanza con la sede tedesca di Hannover e che in Italia mancava dal 2015. 34 paesi del mondo che espongono tutta la filiera, dalla robotica all'automazione, dagli utensili e complementi ausiliari, dalla meccatronica alle tecnologie additive. La fiera della ripartenza la definisce Francesco Rolleri, presidente di Confindustria e Piacenza, con una grande affluenza di visitatori, gradita e in parte inaspettata, che conferma il momento favorevole del settore. Nonostante il grande assente, sia come produttore che come acquirenti, la Cina, che da sola vale il 50% del mercato. La spinta arriva dalla crescente necessità di automatizzare sempre più i processi produttivi, anche a motivo della carenza di addetti specializzati e che spinge a fare investimenti più elevati in macchine utensili. La linea di percorso è quella della trasformazione digitale grazie a Industria 4.0, sostenuta dal governo, spiega ancora Rolleri e con gestione da remoto dei macchinari.